Monte Corvino-Rovella, furto nel cantiere del planetario, arrestato dipendente comunale di Bellizzi. L'arresto da parte dei carabinieri della locale stazione. L'uomo è accusato di furto con scasso, truffa gravata e violazione delle norme di contenimento del Covid-19. I carabinieri nei controlli al planetario nel transitare nei pressi del cantiere hanno notato la recinzione della struttura di velta ed hanno sorpreso all'interno un uomo intento a riempire un secchio con della ghiaia utilizzata per la costruzione. Nella sua auto altri otto secchi pronti per essere riempiti. A seguito di altri controlli, l'uomo 55enne è un dipendente del comune di Bellizzi e che al momento del controllo doveva essere al lavoro in mobilità smart working, invece era intento a svolgere dei piccoli lavori edili nella piazzale della sua abitazione.